L'imprevisto è accaduto questa mattina a Milano. L'annuncio vi farà cadere all'indietro. Per non perdervi nessun dettaglio, e se siete tifosi da più di dieci anni, cliccate sul pulsante Mi piace. Per la seconda stagione consecutiva, il Milan è rimasto a bocca asciutta dopo l'acquisto del giocatore più costoso dell'estate e Pietro Mazzara ha dato qualche indizio su ciò che il club sta pensando. Dopo l'ingaggio di Charles de Quetelaere, l'entusiasmo si è spento quando l'attaccante belga non ha impressionato nella sua stagione d'esordio. L'estate successiva, lo stesso entusiasmo è stato riscontrato quando è stato annunciato l'ingaggio di Samuel Chukwetze. Tuttavia, la sua carriera rossonera ha seguito finora un percorso simile. L'ala nigeriana è arrivata in estate per 20 milioni di euro, con altri 8 milioni di euro di bonus. Finora, però, il diavolo non ha visto un ritorno dell'investimento, né ci sono stati segnali in tal senso. Il 24enne ha impressionato molto con il Villareal, ma questo non si è tradotto nella sua prima stagione in Italia, con l'ala che non ha avuto un rendimento costante. Anche se in Champions League ha fatto vedere cose positive, in serie le sue prestazioni sono state regolarmente al di sotto del livello richiesto. Pietro Mazzara lo ha evidenziato nella sua rubrica per Milan News contro l'Empoli. Chukwetze ha avuto una rara occasione di impressionare dalla panchina, ma non è riuscito a incidere, mancando le occasioni che gli sono state concesse. Mazzara continua, internamente nessuno è contento di quello che si vede, o non si vede, dell'ex sala del Villareal, il che non fa ben sperare per il suo futuro. Tuttavia, se si considera il caso di De Ketelaere, che si è distinto con l'Atalanta, i rossoneri potrebbero agire in modo diverso nella gestione della situazione di Chukwetze, il che significa che hanno il controllo della situazione. Cosa ne pensate della situazione di Chukwetze, se è stato un investimento sbagliato, se non ha ancora detto per cosa è venuto? Ditemelo nei commenti, cliccate sul pulsante e mi piace, e iscrivetevi al canale per ricevere tutte le ultime notizie fino alla prossima volta.